Quando ho visto che il Comune di Massa aveva deciso di scrivere una frase contro la violenza sulle donne in una piazza in rifacimento che è Piazza Palma, mi sono incuriosito, sono andato a vedere che frase era, veniva detto che era una frase di Gandhi, puoi uccidere un fiore ma non puoi contenere la primavera. Questa frase sinceramente non mi suonava e sono andato a vedere da dove venisse questa frase, insomma quando uno fa un minimo di ricerca deve cercare una fonte, non si trovava perché questa frase è riportata in italiano solamente sui siti di aforismi. Allora dice, ma com'è possibile? Se fosse di Gandhi veramente così pubblicizzata ovunque ci sarebbe da qualche parte una fonte, uno studioso di Gandhi che la riporta in qualche modo, non è possibile. Allora ho provato a voltarla in inglese. In inglese questa frase non compariva affatto come Gandhi, semmai veniva riportata a Neruda. Allora ho provato a voltarla in spagnolo, in spagnolo ancora di più, è appoggiata a Neruda, qualche d'uno addirittura la attribuiva a Che Guevara ma sporadicamente e anche in questo caso anche proprio in tanti articoli, anche articoli di critici letterari che la riportavano come attribuita a Neruda. Un'altra pista, c'era una pista cieca perché poi a quel punto il tuo stimolo da true detective si attiva, dice voglio arrivare in fondo. Qualcuno diceva che fosse legata alla prima era di Praga e quindi a Dubcek e qui provo a voltarla anche in cieco. In realtà lì scopro che c'è una canzone irlandese che utilizza questa frase attribuendola alla primavera di Praga, di Dubcek, quindi non c'entra niente neanche in quel caso. Allora l'unica cosa è Neruda e comincio a scrivere a esperti di Neruda, alla fondazione Neruda, scrivo alla fondazione Gandhi intanto perché comunque va bene, mi sembra evidente che non sia di Gandhi però voglio avere la certezza, allora scrivo alla fondazione Gandhi a Londra, mi rispondono che non ne sanno niente, scrivo a un paio di esperti di Gandhi, al massimo esperto di Gandhi Giuliano Pontara che sta in Svezia, mi dice che non ne sa niente di provare a scaricare i 98 volumi delle opere complete di Gandhi, cosa che faccio con la funzione ricerca scandaglio tutti i 98 volumi e non si trova traccia di questa. Perché dico vabbè questa evidentemente non è di Gandhi, abbiamo la prova però ho detto dove sarà? Allora scrivo anche agli esperti di Neruda e mi dicono sì sai quante volte mi hanno chiesto da dove viene questa frase di Neruda ma io non lo so. Allora ho cercato una docente di spanistica a Bergamo e lei gli viene un'intuizione che forse questo richiama uno dei primi libri di Neruda, un libro di poesia giovanile di Neruda che è Canto Generale, in cui ci sono dei versi che assomigliano a questa frase, cioè questa frase sembra un po' la volgarizzazione, la semplificazione di quei versi liricamente molto più intensi, molto più belli, ma insomma il concetto più o meno è questo. Poi in realtà dopo l'intervista al Tirreno, grazie anche all'intuizione di un amico che mi ha stimolato a guardare su Internet Archive, perché lui ce l'aveva guardato, abbiamo trovato che questa frase così come è scritta qua e come è riportata appunto nei siti di Aforismi eccetera, in realtà è di una poetessa guatemalteca teologa della liberazione, la teologia della liberazione sudamericana, quindi teologi della liberazione sono sempre stati considerati marxisti, quindi c'è anche una connessione con l'ambiente e con l'immaginario poetico e ideologico di Neruda evidentemente, Julia Esquivel si chiama, che all'inizio degli anni Ottanta scrisse una poesia che iniziava esattamente con questi versi, quindi in qualche modo siamo arrivati alla fine della storia, abbiamo trovato quest'ambiente che in realtà questi versi sono riferiti alle minoranze oppresse e represse, in particolare Julia Esquivel lottava contro la dittatura militar fascista del Guatemala, contro la repressione dei Maya, delle minoranze come si dice indigene dell'America centrale, insomma tutto ma non Gandhi. Credo che il virus del fake, questo contagio anche dei meme che diventano elementi che si propagano viralmente, sia alimentata evidentemente dai social, dalla rete, attribuirsi frasi prese, rifunzionalizzate in un contesto è qualcosa di assolutamente naturale, non solo per le frasi, per i simboli. I social alimentano e rendono possibile per chiunque fare questo tipo di operazione, moltiplicandola viralmente, ciascun nodo alimenta un'ulteriore propagazione, quindi non c'è proprio commisurazione tra quello che succedeva una volta e quello che succede adesso, insomma è comune nella politica spettacolo, nella politica show, nell'era dell'inconscio, come dice uno psicoanalista, fare questo tipo di operazioni in cui la politica è ridotta a marketing, in cui le parole sono totalmente spropriate del loro significato, esistono solamente dei significanti, vuoti, senza referenti, senza significato, vengono utilizzati come pura cosmesi, scambiabili e riutilizzabili il giorno dopo in un altro senso. La Lega brilla in queste operazioni, Salvini che si appropria delle frasi di De Andrè, quando tutti sanno evidentemente che De Andrè era un anarchico, il cantore dalla parte dei margini, degli invisibili, dalla parte degli zingari, degli odiati zingari su cui Salvini si è costruito una fortuna con le sue ruspe, eppure non conoscendo la vergogna, perché evidentemente non conosce i fondamenti del rigore intellettuale, ma anche etico e politico. Qualcuno diceva, beh, ma insomma se il messaggio è giusto, chi se ne importa chi l'ha fatto? Ora, al di là del messaggio, che magari su questo poi ci torniamo, ma com'è possibile non vedere? Che certo, questo è un dettaglio, in questo non ne va, come direbbe il filosofo, della vita quotidiana dei massesi, della cittadinanza, non va a toccare questioni strutturali, ma ne va profondamente del modus operandi, delle modalità di approccio a una serietà, a un rigore etico, politico e culturale. Se un assessore della cultura si nutre di aforismi.it, se deve cercare una frase e va su aforismi.it, senza neanche porsi il problema della fonte, che è veramente uno dei fondamenti basilari che ti insegnano il primo giorno all'università, quando vedi una cosa devi andare a cercare la fonte. Ora, questo tipo di approccio è evidentemente un approccio che, come viene fatto in questo caso, del tutto marginale, ma questo caso marginale appunto è una cartina tornasole di una incultura politica complessiva, che non riguarda solamente gli aspetti culturali. E come dire, un cialtronismo che certo rispecchia il cialtronismo, un cialtronismo diffuso, ahimè, dovuto anche ai social, eccetera, eccetera, ma quindi può capitare anche a tutti di sbagliarsi per fretta, uno deve fare un articolo all'ultimo momento, non ha modo di controllare, va a memoria, ma un amministratore pubblico che parla per conto di chiunque, per conto mio, per conto di tutta la collettività, non può permettersi di fare questi veramente errori marchiani perché dimostra di non avere il minimo fondamento culturale. Credo che occorre contrapporre a certo tipo di operazioni, operazioni altrettanto veloci, altrettanto rapidi, che stanno dentro il linguaggio dei social, ma allo stesso tempo mantenendo un rigore intellettuale, perché alla fine è sempre una questione di diramazione, cioè questi sono significanti vuoti che funzionano perché sono dei flash rapidi. Certo, bisogna utilizzare questa cosa qua, perché questo è il nostro alfabeto anche di formazione di un senso comune e qui dobbiamo stare, i crodus exalta, qui bisogna stare, questa è la sfida da affrontare, bisogna parlare questo linguaggio, ma parlarlo un linguaggio rovesciando quei significanti vuoti, facendo invece dei significanti pieni che rimandano a delle realtà condivise. Che cosa ne pensi di questa concezione della donna simile ad un fiore e pertanto quindi intoccabile, da difendere, da proteggere contro non si capisce che cosa né chi? Certo, posto che effettivamente volessero dire quello e non volessero semplicemente cercare una frase generica contro la violenza, perché appunto questa frase è totalmente aspecifica, non riguarda non solo per le sue radici latinoamericane che ho citato, che ho trovato nella mia ricerca, non riguarda affatto la violenza contro le donne, punto, quindi è generica e già il fatto di scegliere una frase generica per una questione specifica è una diminuzione, è una svalutazione della questione della violenza contro le donne, che è invece una questione molto specifica, che ha le sue radici specifiche e di quelle bisogna parlare. Se invece porti la questione su un piano generico, stai svalutando la questione e poni le basi per continuare a non capire qual è la questione di fondo quando si parla di violenza contro le donne. Dopodiché se ti sforzi forse ti viene in mente che effettivamente l'unico nesso è il fiore e allora lì si torna veramente in un immaginario maschilista, patriarcale, di donna appunto come giustamente dicevi tu, da difendere, perché c'è l'uomo guerriero e la donna poverina che sta dietro l'uomo, che al massimo è quella, la grande donna che sta dietro l'uomo, questo è tutto ciò a cui essa può ambire insomma. Allora se non vai a toccare appunto anche a livello di immaginario, come una frase fa, come una poesia fa, le questioni del patriarcato, del patriarcato che è una questione infinita evidentemente, non si risolve con una frase, ma se decidi di utilizzare una frase devi andare a parlare lì e non su questo immaginario che è comunque svalutante e inferiorizzante. Questo evidentemente sono capaci di fare, ahimè. Se tu avessi potuto decidere quale frase posizionare in quella piazza, che cosa avresti scritto? Beh non te lo so dire come dire di prima faccia perché evidentemente bisogna pensarci bene, fare una cosa, non bisogna andare su un sito e prendere le prime cose che capitano insomma. Sicuramente sarei andato a cercare nei libri di Virginia Woolf, di Sylvia Plath, di pensatrici, di poetesse che hanno vissuto e parlato a fondo la condizione femminile e magari in quei libri, dopo un'attenta riflessione, capisci qual è la frase più, che è in grado anche di parlare a tutti, anche in maniera evidentemente semplice perché appunto queste cose devono passare e arrivare a tutti indipendentemente dal grado di cultura, dalla laurea, ma allo stesso tempo che fossero frutto di un'elaborazione profonda di uno sguardo femminile. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.